Io mi chiamo Nahal Magiri Zahreddin, sono nato in Nigeria, ho 18 anni, sono a Roma da 2018, sono nigeriano, poi nel 2010 abbiamo lasciato il nostro paese con mia madre, andiamo in Libia, poi nel 2014 è morta mia madre nella guerra in Libia, poi dopo decido di venire qua in Italia per cambiare mia vita, continuare a scuola, fare qualcosa di bello, sono venuto con la barca nel mare, è un viaggio molto difficile, questa storia non mi dimentica mai nella mia vita, perché è un viaggio molto difficile, poi appena arrivato qua in Italia sono stato in Puglia, una casa famiglia che si chiama Verso l'Infinito e oltre, sono venuto qua a studiare per cambiare la mia vita, però appena arrivato qua ho visto che anche io c'è esperienza di calcio, poi questa casa famiglia che sono stato in Puglia mi hanno aiutato, mi hanno coraggio a cambiare questa esperienza che ho, a fare prima Puglia con la squadra di Virtus Francavilla, poi mi hanno portato qua a Roma, appena arrivato qua a Roma a fare Puglia con la mia squadra, Grifoni di Giallo Verde, ho visto tante cose di bello, come giocano i ragazzini italiani, dal Grifoni arriva dalla convocazione regionale e mi sono contento, perché siamo tanti giocatori nella nostra squadra e anche nell'altra squadra e siamo tanti e questo è un fortunato, perché mi sono contento e grazie anche alla società di regionale Lazio e grazie anche ai compagni della mia squadra che mi coraggio sempre, ho bisogno di giocare con una squadra importante in Italia, ho bisogno di questo e sempre pensavo a quello che ha detto mia madre prima morte, mi ha detto che un giorno tu diventi una persona importante e questo sempre pensavo a questo, anche lei non c'è adesso, io sempre pensavo a questo, pensavo a lei, quello che ha detto lei, io sempre pensavo, ho bisogno di giocare con una squadra importante come Roma, Lazio, ho bisogno di questo, però piano piano, sempre pensavo al mio futuro, ancora piccolo, andando a scuola sempre e alleno sempre e grazie al mio manager Berruti, Gianluca Berruti, grazie al compagno di mia squadra e grazie al protettorato di San Giuseppe e grazie verso l'impinito e oltre che mi sempre coraggio a continuare di giocare a calcio come faccio adesso, grazie a loro, grazie grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, grazie mille, sono contento, oggi sono molto contento, grazie, grazie mille, grazie.